Gesù A intelligente A caricare Che ecchia A presto Allora Il vi è un uomo Se non si sbala Non è un sogno Io non mi avrei Nel vi è un uomo Nel vi è un uomo E poi l'altro Nel vi è un uomo Nel vi è un uomo Nel vi è un uomo O, sta sbagliato il cartellone lo faccio spostare girati 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 ehi signorinella che fai? ti sistemi il fart? alzami la vostra ehi, lei che si sistema il fart è stata una pesta oggi per sicuro no vabbè, poco fa quando siamo passati nella hotel c'era anche la questora e poi c'erano le transenne chiedi, che allucinando quando cazzo di chilometri resto qua ci vanno vedere ci sono anche il feste